Anch'io. Due cose, senta, mi spiega questa grande ipocrisia. Sulla Gregoretti si chiede, il centro-sinistra chiede che Salvini venga processato, vada a processo per la questione a Gregoretti. Poi però non si presenta a votare per mandarlo a processo in commissione perché non vuole farne un martire. Come pensa che gli elettori riescono a capire questo tatticismo estremo per cui noi siamo così ma ora non ci conviene farlo? Il tatticismo è esasperato non solo da parte del centro-sinistra, condivido il suo giudizio, ma anche da parte della Lega. A Salvini del processo non ne frega niente. Ma voi non dovreste essere diversi da Salvini? Ma cambia posizione perché deve sfruttare mediaticamente l'onda. Allora, c'è soltanto un punto su cui non sono d'accordo con lei. Lei dice il centro-sinistra vuole processare Salvini. Eh no. Non è il centro-sinistra che vuole processare Salvini. Vuole mandarlo a processo. No. Sono i magistrati che vogliono mandarlo a processo. Scusi, perché questo è un passaggio importante. Quello che deve decidere il Parlamento non è un giudizio di merito. Vuole la mia opinione. Che probabilmente non verrà condannato perché non ci sono gli estremi. Ma no, perché la mia opinione è che quel reato lì, per come è configurato, è un'esagerazione nei confronti di Salvini. Io sono contrario al fatto che Salvini abbia tenuto dei poveri disgraziati in mezzo al mare. Mi sembra una cosa schifosa. Tuttavia, da qui a dirgli diamo 18 anni o 12 anni per sequestro di persona, è una cosa che a mio giudizio non sta in cielo o in terra. Però perché voterò a favore dell'autorizzazione a procedere? Perché non sono io a dover decidere se lui va a processo o no. È la magistratura. Io devo solo decidere. Dovevate farlo in commissione per una coerenza con quello che avete sempre detto, secondo me. Ma io sono dell'idea di votare a favore della richiesta dell'autorizzazione a procedere. Rispetto al gioco tattico della commissione, è una cosa che lei dice, non l'hanno capito gli elettori. Non l'ha capito nessuno. Alla fine mi sono presso anch'io perché era un minueto dove... Eh, pensi di cittadini che però... Non c'è un dubbio. Dopodiché però me lo lascia dire su questo. La questione migratoria non si risolve con gli spot alla Salvini. Così come col cipofono non risolvi lo spaggio. Si risolve con un grande investimento in Africa.